Una partita difficile che ha tratti dominata dal bel gioco, tutte e due le squadre sono completate bene in campo. La partita ha visto il Mileto andare in vantaggio su una bella azione conclusa magistralmente dal numero 10. Nel secondo tempo è uscita fuori la forza dell'Eurogiri Falco che con due reti, una da calcio d'angolo e una sul rigore, procurato da Trino e trasformato da Quirino, vince la partita 2-1 e si porta forse momentaneamente al quarto posto in classifica. La partita è stata combattuta, le due squadre sono affrontate a viso aperto, nessuna delle due squadre aveva nulla da chiedere al campionato perché i giochi ormai a tre giornate dalla fine sono quasi fatti. Una bella giornata di sport, bene il Mileto, bene i giocatori del Mileto, bene i giocatori del Giri Falco, anche le sostituzioni, chi è entrato in campo si è comportato bene, molto bene anche gli under. Ora andiamo a Caolonia e ci giochiamo le nostre carte lì al campo del Caolonia. Onoriamo il campionato fino alla fine, mancano tre giornate e alla fine dei conti poi tiriamo le somme.